C'è solo momenti che ci sono momenti nella vita nei quali siamo chiamati a vivere cose immense. Potevamo nasconderci, fuggire, mimetizzarci e invece abbiamo scelto di esserci, di starci. Arrabbiati, impauriti, ma eravamo lì dove la vita ci aveva chiamati. Dovevamo dare un senso al nostro essere stati chiamati proprio lì. E in breve la rabbia ha cominciato a essere orgoglio per la professione. La paura ha lasciato spazio alla speranza. La rabbia si è inchinata alla tenerezza. Abbiamo iniziato a riconoscerci nonostante le mascherine. Abbiamo compreso che le nostre diversità avrebbero potuto essere le nostre difficoltà, ma le abbiamo messe al servizio l'uno dell'altra facendone la nostra forza e la nostra ricchezza. E se prima non volevamo iniziare quell'avventura, poi, durante la pandemia, abbiamo voluto viverla fino in fondo. Un'avventura di vita nella quale immergersi completamente e alla quale dare un senso pieno, il senso della nostra professione. Grazie a tutti.